Con l'ordinanza del Presidente della Provincia, Michele Strianese, del 29 novembre, viene autorizzata alla società Ecoambiente Salerno S.P.A. lo stoccaggio temporaneo e speciale della frazione secca tritovagliata prodotta dallo stabilimento TMB di Battipaglia. Strianese ha chiarito che il fermo dello stir di Battipaglia produceva istantaneamente il mancato prelievo del rifiuto indifferenziato nell'intero territorio provinciale, con inimmaginabili conseguenze per la sicurezza alla salute dei cittadini, oltre che per il decoro del territorio, tale da costituire una vera e propria emergenza di tipo sanitario. Era necessario affrontare con misure urgenti ed immediate la questione dello stoccaggio e del rifiuto, in modo da consentire le lavorazioni dell'impianto senza soluzione di continuità. Da alcuni mesi si registravano difficoltà e disagi per il conferimento presso l'impianto di Battipaglia da parte di molti comuni della provincia e ciò si ripercoteva sulle precarie condizioni sanitarie ed igiene pubblica sul territorio. Per questi motivi è autorizzato con grude senese il temporaneo stoccaggio della frazione secca tritovagliata in valle presso l'impianto TMB di Battipaglia per un periodo temporale non superiore a 90 giorni.